Musica Queste le previsioni per la giornata di domani, domenica 24 dicembre. Il cielo si presenterà sereno, poco nuvoloso su tutta la regione per gran parte della giornata, fatta eccezione per i settori tirrenici ed occidentali, dove si assisterà al transito di innocui banchi di nubi basse. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie. Venti, molto deboli da direzione variabile o assenti su tutta la regione per gran parte del giorno, fatta eccezione per il trapanese, in cui la ventilazione spirerà da maestrale con intensità debole o moderata. Mari, poco mosso lo ionio, mosso il tirreno, molto mosso sotto costa, agitato a largo il canale di Sicilia. Queste previsioni sono fornite grazie alla collaborazione con il Centro Meteorologico Siciliano, sigle a cura di AP Web Radio e in Social TV. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti